we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi un sacco di novità per quello che riguarda le ultime 24 ore delle news di fortnite ci sono tantissime informazioni che stanno arrivando per quello che riguarda i due nuovi cacciatori che johnson ha deciso di reclutare e che quindi faranno parte della storyline principale vi faccio vedere uno spezzone video e ve ne parlo ma parleremo anche finalmente dell'ufficializzazione del programma reboot friend che diventa finalmente disponibile con quattro ricompense e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno mettendo un bel like a questo video e che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta proprio della skin master shift ha avuto davvero un riscontro fantastico un'approvazione da parte della community molto alta la skin di halo uno dei primi uno dei primi crossover di questi sta di questa stagione 5 appunto riscosso un grande successo tanto da creare una modalità in creativa completamente dedicata qua sotto vi sto facendo vedere il codice della mappa vi basterà inserirlo per potervi immedesimare a pieno nel master shift e ritornare a vivere un pochettino le esperienze dei vecchi halo ma non è finita ragazzi perché volevo dire che per tutti i possessori della console xbox series x oppure s vi basterà semplicemente fare una partita con questa skin per poterne sbloccare la variante total black veramente molto molto bella questa variante con la corazza completamente nera l'unico modo appunto per ottenerla è quella di giocare una semplice partita con la nuova console di xbox e diventerà sicuramente una skin abbastanza rara perché ne vale davvero la pena ed è fatta a tiratura super limitata andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle informazioni molto interessanti per tutti quelli che durante le partite hanno difficoltà a potenziare la propria arma questa ragazzi è una mini mappa dove potete trovare tutti i personaggi che vi permettono di potenziare il vostro la vostra arma è una cosa molto comoda quindi vi consiglio di salvarvi l'immagine questa è per e per fare la foto in modo che potete cliparla e studiatevi un attimo le posizioni questo vi servirà senz'altro se avete un po di gold per spenderlo e upgradare la vostra arma ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché finisce finalmente il periodo in realtà è terminato il 26 novembre il periodo del reboot a friend e diventa dopo le fasi di test ufficiale a tutti gli effetti che cos'è il reboot a friend praticamente è una come dire non è una modalità di gioco è una come dire è un invogliamento da parte di fortnite di farvi giocare con degli amici sulla vostra lista che per caso non con cui non parlate più da tanto tempo è sicuramente un modo per solidificare la community e questo è il messaggio ufficiale fortnite just announced the reboot friend event starting on december 14 quindi inizierà il 14 dicembre e sicuramente metteranno un posto ufficiale o sulla loro pagina twitter o sul loro sito web if you invite a friend throughout the reboot a friend website you can get rewards depending on how many rounds you play together quindi se tramite il sito ci sarà sicuramente una possibilità di invitare uno dei vostri amici e giocate parecchie partite assieme ma non tantissime otterrete delle ricompense ora ve le faccio vedere questa invece era tutta la sezione italiana dedicata al reboot a friend quali giocatori sono idoni per il programma riavvio tutti i partecipanti devono aver ricevuto una mail di invio di invito al test questo era appunto per le prove quanto durerà il test finirà il 26 novembre alle ore 23 59 come si ottengono le ricompense per sbloccare le ricompense gli invitati dovranno giocare partite con gli amici riavviati dopo aver giocato insieme entrambi i giocatori riceveranno la stessa fantastica sorpresa ed ecco qua ragazzi una partita giocata insieme l'emoticon di riavvio 5 partite il brano per la lobby cambio di tono quindi una home ground musicale 10 partite il piccone artigli gemelli 20 partite la copertura olografica questa è tra l'altro l'immagine che rappresenterà tutte e quattro le ricompense come vedete l'adesivo la base musicale il doppio piccone e la copertura animata mi auguro davvero ragazzi che partecipiate anche voi ci saranno delle informazioni ufficiali dal 14 dicembre e quindi dagli regali gratis sono sempre ben accetti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché forse non lo sapete ma c'è una svolta nella storyline di questa season 5 del capitolo 2 come sapete johnsy l'agente johnsy è rientrato nel punto 0 lo vedete nel trailer ed è sbucato appunto nella mappa in cui stiamo giocando proprio adesso se vi ricordate bene ciò che diceva recluterò i migliori cacciatori per affrontare tutti insieme la situazione che si sta creando il primo ovviamente è stato il mandaloriano la skin di livello 100 di questo pass battaglia i prossimi sono daryl dixon e mission sono i due protagonisti di the walking dead quindi gli ammazza zombie in poche parole e tra l'altro durante i game awards è stato pubblicato anche il mini trailer dedicato alle due skin di the walking dead che saranno disponibili dal 16 dicembre ve lo voglio far vedere molto rapidamente come vedete ci sono gli zombie che vengono di potenza fucilati dai due cacciatori johnsy atterra dal punto 0 in testa uno zombie tira fuori proprio il cristallo e zoom come se nulla fosse riporta entrambi appunto allo zero point quindi un'altra bellissima collaborazione insomma ragazzi io per oggi tutte le news ve le ho dette voglio ringraziarvi tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di schiacciare il like ragazzi lasciate un commentino aiutatemi a portare questo video sui consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ma con il vintage perché oggi è domenica ciao ciao